Piccini, lei è stato sindaco di Siena per due mandati, di una Siena al centro dell'economia e della vita politica di questo paese. Ma racconta che è alla fine del suo mandato che lei avrebbe avuto la possibilità di starare un primo rapporto per l'acquisto di Anton Veneta. Poi ce ne sarà anche un secondo, ma Mussari deciderà solamente nel 2007 di acquistarla strapagandola. Nella strategia del polo federativo ho avuto dei contatti con l'allora direttore dell'Anton Veneta che era a Pontello, un rapporto che era anche un rapporto di amicizia e di stima reciproca e avevamo convenuto che c'era la possibilità di un rapporto diretto fra il Monte dei Paschi e la banca Anton Veneta. Siamo nel 2001. Successivamente fu offerta da Agnoti, credo intorno al 2004-2005, non ricordo bene. E' presumibile che il prezzo fosse inferiore rispetto a quello che poi è stato effettivamente pagato. Certo, quello del 2001 era un prezzo veramente favorevole. Il racconto di Piccini è molto interessante, molto significativo perché serve a capire il rapporto malato che c'è nel potere economico e politico in Italia tra centro e periferia. Piccini in questo libro racconta la storia di un uomo che era fortissimo a Siena, veniva eletto sindaco con valanghe di voti, ma non riusciva e non è mai riuscito a entrare in sintonia col potere romano del suo partito, che era il partito comunista. Infatti alla fine è stato fatto fuori perché ciò che lui pensava del futuro del Monte dei Paschi non corrispondeva ai disegni dei vertici romani del partito. Quali furono le pressioni che D'Alema fece per spingere sulla fusione di MPS con BNL? La pressione fu in quel momento e poi un altro incontro avvenuto precedentemente a Roma sempre quando parlammo delle ipotesi di sviluppo del Monte dei Paschi. In generale era una serie di pressioni che venivano non soltanto da D'Alema. Mi ricordo per esempio un incontro con Rutelli quando era sindaco di Roma e mi ricordo altri incontro con Fazio, ad esempio. Fazio è stato molto pesante su questa cosa. La storia del Monte dei Paschi è una vera e propria tragedia per il sistema finanziario e per l'economia italiana. Una banca con un fortissimo radicamento locale insegue dei sogni di grandezza nazionale e internazionale perché questo vogliono i suoi padrini politici nazionali e lo fa in maniera talmente maldestra da distruggere se stessa.